Due decessi in provincia di Ragusa a causa Covid. Le vittime totali dall'inizio della pandemia salgono così a 712. Due decessi registrati nel territorio ebleo si sono verificati nella RSA di Ragusa e nel reparto di medicina dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Per quanto concerne i positivi rilevati in provincia sono in totale 45. Tra questi 17 sono registrati nel comune capoluogo, mentre 11 a Modica. A seguire 6 casi rilevati a Scigli e 5 a Vittoria. Tre casi sono registrati a Pozzallo, due a Chiara Monte e Gulfi, mentre uno a Ispica. A Cate, Comiso, Giarratana, Monte Rosso, Almo e Santa Croce e Camerina al momento sono Covid free, almeno secondi dati ASP. Tra i 45 positivi 34 sono a domicilio, mentre 11 sono ricoverati tra il Maggiore di Modica, 4, Scigli e Ragusa tra ciascuno e due al Guzzardi di Vittoria.